È stato svelato a Milano il calendario del campionato di Serie A stagione 2017-2018 e si parte subito con il botto, con le grandi già protagoniste in sfide insidiose. Roma, Milan e Napoli appronteranno in trasferta Atalanta, Crotone e Verona. L'Inter esordirà con la Fiorentina in casa, così come la Juventus, campione d'Italia contro il Cagliari. Questo è il quadro completo della prima giornata in programma il 20 agosto. Atalanta-Roma, Bologna-Torino, Crotone-Milan, Verona-Napoli, Inter-Fiorentina, Juventus-Cagliari, Lazio-Sballe, Salvadorio-Benevento, Sassuolo-Genoa ed Udinese-Chievo. Per quanto riguarda i derby, quello tra Bianconeri e Granata andrà in scena la sesta il 24 settembre. Invece quello milanese sarà protagonista all'ottava giornata il 15 ottobre insieme a Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Il termine della lanterna tra Salvadoria e Genoa alla dodicesima giornata. Mimmo Siena, Speciale News.